Sì, lasciamo qua le valigie, facciamo un piccolo briefing e poi si va. Perché siete bravi e ci rivedremo, sennò andremo io e Beppe e gli altri stanno a fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il caffè io lo prendo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Adesso dopo tre anni andavo su in terza. Adesso non vai più. Grazie a tutti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Può stare il bagaglio. Uno per macchina, mettiamo il bagaglio sulle altre macchine. Il problema è una zona dove ci sono i Khatun. c'è quelle abitazioni dei pastori nomani di montagna. Tutti in fila. Per me. 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 Poi me 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 Poi me